Credo che il campo ha detto qual è la squadra più forte, mi sembra evidente, non ci sono né alibi né scuse, primo tempo buone situazioni, 19% dal campo, 0 su 12 da 3 sono abbastanza significative di quello che è successo, una buona reazione poi in partita ma chiaramente il divario del primo tempo l'abbiamo pagato. Sì, loro sono molto tosse, noi siamo consapevoli di non aver fatto la nostra migliore partita, però comunque dobbiamo migliorare perché siamo comunque lì e quindi cerchiamo comunque di prendere questa partita per imparare, fare meglio comunque nel proseguo che la parte più importante della stagione sta arrivando. Che cos'è mancato in questa serata? Il tiro è quasi scontato dirlo ma forse anche un attimino di cattiveria forse. Sì, a volte eravamo lì per recuperare la palla o i rimbalzi e poi alla fine loro magari con più cattiveria e aggressività sono riusciti a portarle via quindi magari quello e ovviamente le percentuali non hanno aiutato e quello comunque nella palla canestra è molto importante.